Mi senti che è morto. Mi dispiace. Ok. Non credo che la polizia abbia già identificato il corpo. Tu che vuoi fare? Niente, non posso interagire. Hai idea di chi sia stato? Sì, credo di sì. Ti ha inviato delle foto di Michele. Aspetta. Angelo Carbone, ex reparti speciali, è un mercenario, è stato Ieme, Siria. Con Arriba e la testa hanno fatto la destra mente insieme. È stato testa a ingaggiarlo. Forse lì ha atteso una guardia, mi sentì, non ce l'ha fatta. Dorico è qui. Ascoltami, si arriva Dorico. Arriva De Santis. Rebecchi, si è fatto sentire? Sì, è appena tirato a Zurico, ma è ancora in viaggio per non uscire. Mi sento un po' di due per questioni personale. Chiamatemi appena scessa l'unità. Certo. Balaldi, hanno appena ucciso Angelo Carbone, mercenario, ex reparti speciali. Ascoltami. Trova Carbone. Trovami dove alloggiava, dove si nascondeva. Trovole, no. Balazio di Oriente. Grazie. Grazie.